Nasce Impresa Calabria. Di cosa stiamo parlando? Di un movimento politico-culturale che è il solo scopo di far progredire la nostra terra. Una terra martoriata, dilaniata da una politica spesso sorda alle esigenze del cittadino. Ecco perché Impresa Calabria, un movimento che si prefigge come scopo principale, quello di aiutare la gente a progredire, a credere in un futuro che non sia solo di miseria o emigrazione. Ed è per questo che Domenico Mallamaci, forte delle sue oltre 7.000 preferenze ottenute alle ultime elezioni regionali, ha dato vita al movimento per dare compimento alle promesse fatte durante la sua campagna elettorale. Ma soprattutto per non disperdere il grande e prezioso patrimonio di idee e di competenze nate nell'ambito della sua esperienza fatta a fianco di Mario Oliverio. Noi presenteremo, penso per la fine di maggio, metà di giugno, una proposta che vedrà interessata la zona dell'area grecanica, i comuni dell'area grecanica. Un patrimonio culturale impressionante, un patrimonio culturale inimmaginabile. Faremo una proposta proprio per quel turismo di nicchia che è legato a questo tipo di siti. La presenteremo all'aggiunta, la presenteremo, dicevo prima, anche probabilmente con sottosegretario e beni culturali grazie all'interessamento di Nico Stumpo, onorevole del Parlamento italiano che mi è molto vicino in questa iniziativa e che colgo l'occasione per ringraziare veramente con grande affetto. Se Oliverio le proponesse un assessorato, accetterebbe? No, guarda, io non mi sono mai sottratto alle responsabilità. Non credo sia un argomento all'ordine del giorno, ma sarei, come dire, onorato e contentissimo di poter servire questa terra. L'associazione appena nata vanta già un grosso numero di militanti, politici, uomini e donne di cultura, esponenti della società civile e cittadini, tutti insieme, con un unico intento, agire per il cambiamento. In centinaia la presentazione, provenienti da tutta la Calabria, curiosi e soprattutto attenti alle innovative e vere proposte di cambiamento presentate dal Movimento. Il fatto che in questa sala ci siano soprattutto lavoratori, imprenditori, sindaci ed amministratori dei piccoli centri della provincia di Reggio mi inorgogliscono, mi fanno capire che effettivamente è la strada giusta. La gente ha bisogno di confrontarsi rispetto alle problematiche, molte volte non trova nei partiti tradizionali questa possibilità. Noi nasciamo anche e soprattutto per dare risposte concrete ai cittadini.